ciro cipolletta difensore neo acquisto rosso azzurro benvenuto e buon anno grazie mille buona voi quali sono le tue prime impressioni no sono stato accolto benissimo dal gruppo squadra si vede che una squadra costruita in una certa maniera abbiamo una rosa forte molto competitiva e ci sono tutti i presupposti per fare molto bene la tua scelta è stata una scelta difficile oppure ma diciamo che con il direttore montervino abbiamo messo dieci minuti per per fare il tutto perché quando ti chiamo la società organizzata come il casarano non puoi esitare cioè non ti viene proprio per la mente di non accettare quindi è stata una scelta molto facile per me i primi allenamenti con la nuova squadra come ti sono sembrati che gruppo è questo sicuramente un gruppo che lavora tanto lavora bene lavora col sorriso e questi sono complimenti molto importanti per fare bene un gruppo è sicuramente forte fatti con giocatori di qualità e quindi per me è stato ecco facile l'inserimento perché stando con uomini di certo spessore di un certo spessore è facile per tutti integrarsi domenica il primo la prima partita dell'anno che partita sarà ma sicuramente sarà una partita dura perché tutte le squadre che ci affronteranno daranno qualcosa in più per per appunto la squadra che siamo quindi sappiamo che dobbiamo stare sempre sul pezzo per almeno dobbiamo almeno pareggiare la loro fame per cercare di portare il risultato a casa perché questa è una categoria dove la fame la voglia di correre le seconde palle è tutto quindi su quel punto di vista ci dobbiamo far trovare impreparati però sono sicuro ripeto anche guardando i primi allenamenti per lo spessore umano che ha questa squadra sono sicuro che non ci saranno problemi una lunga carriera la tua e grande esperienza in categoria che tipo di calciatore sei ma ho girato un pochino parecchie soprattutto nel in puglia sono un difensore a cui piace piace sare essere aggressivo sull'uomo e provare a giocare la palla quindi sono a completa disposizione dello staff per per le loro richieste ecco